Fra è atterrato alle 18.40 ma non è ancora uscito dal gate, provo a chiamarlo ma il telefono spento, quindi non capisco. Carlo entra, entra subito e vai a vedere cosa sta succedendo in questo aereo. Carlone entra dall'uscita, la polizia lo arresta, io piangendo chiamo l'ospedale di Niguarda chiedendo se è arrivata un'ambulanza e con Francesco Facchinetti è morto. Mi sono seduto, mi sono addormentato, mi sono svegliato, non so dove cazzo sono, sono a Rotterdam, non so dove cazzo sia, aspetta avanti. Poi continuava a mandare le foto e a ridere, e ridevano, che cazzo ci sarà da ridere. Non mi ha ancora risposto, quindi manda le foto, che cazzo le foto mi mandi? Dimmi dove atterri. A me to, chi mi fai? Adesso cosa sta facendo invece di abbracciarmi? Sta twittando. Ti ho abbracciato fino adesso, ti ho abbracciato fino adesso.